Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Come sentivo commentare siamo pochi, molti noti, molti amici. Dicembre è sempre così, no, perché è un periodo saturo di iniziative. Poi è un lunedì, insomma, poi è una sera, però noi abbiamo molto piacere di essere qui e è altrettanto piacere che ci siate anche voi. Intanto se siete qui probabilmente avrete visto il programma di tutta l'iniziativa, per cui visto che oggi è la prima di quattro giornate, vorrei introdurvi anche l'iniziativa in generale e spiegarvi da chi è stata pensata, come è stata pensata. Il titolo appunto è Incontri con le tradizioni musicali della Sardegna. Questi quattro incontri fanno parte di un progetto più ampio che ha però in realtà come punto focale l'incontro che io in qualche modo coordino con musicisti di tradizione orale di varie parti della Sardegna e che sono rappresentativi di diversi repertori delle musiche di tradizione orale della Sardegna. Iniziamo oggi con Massimo Perra che vedete qui al mio fianco, che probabilmente conoscete insomma perché vive a Elmas da anni e che poi vi presenterò meglio e poi proseguiamo domani con Andrea Pisu, che è un suonatore giovane e molto abile, suonatore di Launeddas. Domenica 18 con Giuseppe Orru che è un polistrumentista, lui non è di Elmas ma forse è conosciuto perché da alcuni anni è docente di musica nelle scuole medie qui di Elmas, insomma quindi almeno dai più giovani è conosciuto. E poi il giorno successivo, il lunedì 19, incontreremo i poeti improvvisatori del Campidano con appunto diverse persone, avremo due poeti improvvisatori, il coro di accompagnamento e la chitarra. Quindi questo è il programma di Massimo. Perché intanto questo progetto? Beh intanto ci occupiamo di musica di tradizione orale perché è fondamentalmente il mio campo di studio, il mio occupo di etnomusicologia, insegno etnomusicologia al Conservatorio di Cagliari e chiaramente insomma ho incentrato gran parte, la parte più importante dei miei studi sulle musiche della Sardegna. Da tempo ho attivato un rapporto di collaborazione con il comune di Elmas che negli anni passati mi ha portato a realizzare alcuni documentari che probabilmente conoscete e quest'anno abbiamo cambiato formula, quindi invece di propormi o di essere contattato dal comune come filmmaker, come realizzatore di documentari antropologici per la prima volta sono in veste di etnomusicologo, insomma vera e propria. Quindi insomma l'elettromusicologia è un po' il centro dei miei interessi. Allora quando l'amministrazione comunale mi ha contattato ho pensato subito di proporre un progetto di questo tipo sulle musiche tradizionali della Sardegna perché questa è una questione che spesso mi trovo ad affrontare perché in realtà in Sardegna le musiche tradizionali sono pratiche vive. Se noi pensiamo, facciamo un confronto sicuramente con le altre regioni d'Italia ma anche con molte aree europee, insomma la Sardegna è una terra privilegiata da questo punto di vista, c'è tanta musica, ci sono tante musiche di tradizione orale e queste sono molto vissute, partecipate, sono legate ai contesti non sono presenti solo nella dimensione folcloristica ma sono tra la gente, durante le feste, durante tutti i momenti dell'anno. Allora può sembrare un po' strano che sia necessario presentare ai sardi le musiche tradizionali della Sardegna e questa credo sia un po' la particolarità di questi anni, di questo periodo storico per cui ci troviamo da un lato veramente con queste musiche vive, che ci circondano praticate da tanti giovani, ecco, è importante anche sfatare quest'idea che le musiche tradizionali siano appannaggio di pochi vecchietti che vivono in qualche paese sperduto nella montagna in realtà tantissimi giovani praticano queste musiche e quindi ovviamente le conoscono, le apprezzano e così via poi in questo periodo storico troviamo tante persone magari più anziani che oggi non le praticano più, non le vivono ma sicuramente le ricordano a me capita tantissime volte per lavoro di andare in giro parlare con le persone anziane che magari oggi, ripeto, non ballano più il ballo sardo non cantano più mutetus, ma sicuramente ricordano nella loro infanzia quanto queste pratiche musicali fossero importanti per loro e poi invece abbiamo tanti sardi che sanno che cos'è per sentito dire il canto a tenore o le launedas, ma in realtà non hanno un rapporto diretto, concreto, reale con queste musiche diciamo, questo è un po' l'auditorio con cui quando mi capita di fare conferenze o incontri di questo tipo ci si raffronta allora proprio da questa realtà nasce questa formula io credo che per fare in qualche modo divulgazione scientifico, culturale intanto sia fondamentale la presenza dal vivo dei musicisti vengo contattato a volte a fare convegni, conferenze vado lì col computer, con i powerpoint però avere un musicista dal vivo è sicuramente un'altra cosa sia perché la musica dal vivo piuttosto che la musica registrata è ovviamente molto più godibile, molto più intensa anche emotivamente sia perché i musicisti di tradizione orale non sono più come i vecchi informatori che studiavano gli antropologi o gli etnomusicologi negli anni 50 che insomma sono testo e pensanti persone che hanno grande consapevolezza di ciò che fanno che hanno un pensiero articolato, una bella riflessione sulla loro musica sul perché fare questa musica per cui sono interessanti insomma da avere davanti con i loro bei strumenti che vederli suonare ma anche parlare con loro insomma che confrontarsi con loro e quindi da qui niente nasce questa idea della chiacchierata a concerto io così la chiamo con l'idea che io appunto dia alcune informazioni di tipo magari storico, tecnico, organologico sugli strumenti e poi possiamo sentire musica dal vivo e possiamo parlare io col musicista ma assieme al pubblico ecco e questo è un po' un modo per accontentare tutti questi pubblici in qualche modo chi praticava queste musiche del passato in queste occasioni le può ricordare chi le conosce ha il piacere di risentirle chi non sa niente di queste cose può per la prima volta informarsi l'altra cosa importante di questo progetto è che mi avete sentito parlare molte volte di musiche non di musica perché è così in Sardegna non esiste la musica sarda una musica ma esistono tante musiche diverse che sono dislocate in diverse aree geografiche e visto che questo progetto è fatto ad Elmas e al Campidano ho pensato un programma in cui ci si concentrasse sulle musiche del sud della Sardegna in realtà poi vedremo meglio oggi sentiremo anche dei balli del nord dell'isola però insomma anche con l'idea di sfatare un po' quest'idea mitica che l'unica parte dell'isola che ha conservato le tradizioni sono il centro, la barbage, il luogo d'oro in Campidano, Cagliari dintorno in realtà urbana non c'è più niente in realtà la questione è molto più complessa in Campidano c'è tanta bella musica che esiste solo in Campidano e tante brave persone che la praticano e poi insomma ripeto siamo a Elmas questo è un progetto voluto dall'amministrazione comunale per cui ci siamo concentrati sulle musiche e sulle realtà locali il progetto appunto è voluto dall'amministrazione comunale cofinanziato in parte dall'amministrazione comunale in parte dalla regione Sardegna attraverso il tramite della provincia con i finanziamenti della legge regionale 26 che è questa legge del 1997 che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda quindi attraverso questa legge questi fondi che la regione mette a disposizione che la provincia gestisce e che il comune in qualche modo programma e cofinanzia è stato possibile realizzare questa iniziativa quindi direi insomma che il ruolo del comune è fondamentale perché questo progetto l'ha voluto perché il comune che ha portato avanti tutta la progettazione e tutte le pratiche perché continua dopo diversi anni insomma a coinvolgermi a contattarmi io di questo sono molto contento e quindi lo ringrazio ufficialmente ringrazio tutta la giunta ringrazio il sindaco Valtepe Scedda ma ringrazio l'assessore alla cultura insomma che è la persona della giunta con cui io mi sono più rapportato ovviamente che è Sandro Cancedda che è qui presente per cui visto che siamo almeno al primo incontro gli chiederei di fare un saluto ufficiale insomma manifestare la presenza dell'amministrazione buonasera non vorrei rovinare quello di bello che ha detto Marco insomma quindi siamo qui proprio per ascoltare noi abbiamo voluto questa iniziativa perché la riteniamo veramente meritoria e importante abbiamo la fortuna di avere un giovane etnomusicologo a Elmas mi sembra anche giusto valorizzare le risorse di questo paese la formula che Marco ci ha proposto e che noi abbiamo condiviso credo che sia la più idonea perché uno è fare una conferenza che può anche portare un po' alla noia ma quando si ha la dimostrazione pratica con i musicisti qui sul palco credo che la cosa sia più interessante credo che sia una cosa fondamentale qui non si parla né di nostalgia né di niente ma la memoria è importante quindi la Sardegna sappiamo quanto è ricca di tradizioni quanti paesi hanno i loro gruppi i loro cori quindi è una ricchezza veramente importante per questa regione è anche una risorsa però effettivamente è vero noi l'abbiamo quasi subita tutta questa tradizione perché l'abbiamo sempre vissuta in prima persona siamo sempre cresciuti con la musica con i balli folk però effettivamente non c'è mai stata almeno a Elmas qua voglio dire una ricerca scientifica un po' perché conosce un po' a fondo un po' meglio quelle che sono le nostre origini e tradizioni della musica e anche della poesia perché poi lunedì ci sarà anche la poesia quindi ripeto questa è un'occasione che noi abbiamo voluto sfruttare abbiamo la fortuna di avere qua Marco dispiace che non c'è tanta gente oggi lunedì siamo riduci anche da un bel successo di sabato con Pupi Avati purtroppo abbiamo voluto incastonare le date dicembre un mese di 31 giorni però per noi se fosse stato i 60 sarebbe stato meglio perché non siamo in grado veramente di soddisfare tutte le esigenze e le richieste che ci vengono presentate quindi abbiamo fatto un po' una selezione abbiamo ritenuto queste quattro giornate quattro giornate importanti e interessanti quindi siamo qui a ascoltare e a saperne un po' di più tutti quanti quindi saremo molto attenti a ascoltare la lezione che Marco e i suoi collaboratori in questi giorni ci porteranno portare la nostra attenzione grazie a tutti e a lunedì volevo ricordare mercoledì scusate se ne approfitto ma è quasi obbligato per me oltre agli appuntamenti di Marco mercoledì abbiamo un altro appuntamento importante che è quello con Gerardo Colombo al 17 che sarà presente qua in questo teatro dove parlerà di legalità un tema purtroppo qua in Italia sempre molto attuale quindi insomma siete invitati oltre che alle quattro giornate con Marco anche a questa di mercoledì grazie buon ascolto a tutti intanto avete visto qua siamo pieni di tecnologie voi direte in realtà probabilmente la voce si sente anche senza microfono però dimenticavo di dirvi che il progetto prevede come vedete ci sono delle telecamere in giro tutti questi incontri saranno filmati e poi verranno conservati insomma messi su un sito internet che è stato attivato appositamente che è scritto anche nella locandina è elmascultura.net un sito che rimarrà in cui confluiranno tutti i lavori precedenti documentari tutti questi quattro incontri che verranno integralmente firmati ed è un sito che rimarrà a disposizione del comune insomma per altre attività culturali per cui insomma cerchiamo di non fare brutta figura che poi rimane tutto su internet allora Massimo Perra insomma è il primo dei nostri dei nostri incontri come avete visto dalla locandina Massimo Perra suona due strumenti suona sia la fisarmonica che l'organetto vedete sono questi due strumenti che lo circondano due strumenti per alcuni aspetti simili ma in realtà molto diversi per altri versi avremo modo di conoscere adesso nell'immediato meglio sia Massimo che i due strumenti che suona che i repertori che vengono eseguiti con questi strumenti intanto perché Massimo beh direi il primo motivo è perché è un ottimo musicista che insomma visto che sentiamo della musica che cerchiamo di mostrare il valore di questa musica ci teniamo ad avere dei musicisti che questa musica la facciano veramente bene poi anche un'altra delle ragioni è questo appunto del rapporto col territorio Massimo è nata a Capoterra insomma ma da anni vive qui a Delmas per cui insomma in questa prospettiva di valorizzare in qualche modo le risorse anche umane locali insomma questa iniziativa come vi ho detto è nata dal comune è fatta da noi persone di Delmas ecco per me è importante che ci fosse Massimo come vi dicevo suona i due strumenti ha un percorso della sua carriera da musicista che è molto interessante con Massimo ci conosciamo e siamo amici da anni per cui ho avuto diverse occasioni quando suonavo di suonare con lui e adesso che non suono più di chiacchierare a lungo e insomma tra le tante cose interessanti è che per esempio della sua carriera c'è il fatto che lui è stato allievo ha iniziato a suonare col maestro Ignazio Erbi che è forse il suonatore di fisarmonica tra i più anziani in attività e sicuramente tra i più famosi della Sardegna e questo è interessante perché intanto è possibile fare un rapporto un confronto tra lo stile di Erbi che è ancora in attività e lo stile di Massimo e ci dice già qualcosa che questi sono strumenti che in molti casi non sempre non si apprendono così insomma stando a casa ma è necessario andare a prendere delle vere e proprie lezioni da un maestro insomma dietro questi strumenti c'è un repertorio molto complesso molto articolato che richiede anni di studio e la maggior parte dei suonatori i primi passi li muovono proprio con un rapporto diretto con un maestro che ha più esperienza di loro poi molto spesso i rapporti si insomma il maestro allievo si separano e l'allievo ovviamente prosegue il suo percorso poi vi ho già detto l'altro motivo è che Massimo suona entrambi gli strumenti non è cosa diffusa non sono tantissimi i suonatori che hanno competenza su entrambi gli strumenti molto spesso i suonatori di strumenti a tastiera sono specialisti o dell'organetto o della fisarmonica per cui era un'ottima occasione qui per avere una sola persona e poter sentire due strumenti diversi e l'ultimo aspetto per cui insomma senza dubbi ho pensato subito a Massimo è che con la fisarmonica e l'organetto Massimo nell'ambito della diciamo di quelli che sono i possibili percorsi che un suonatore di fisarmonica e organetto può fare in Sardegna ecco in qualche modo Massimo li ha percorsi tutti adesso li vedremo quando parleremo degli usi di questo strumento lo vedremo meglio a breve ma vi anticipo già questo strumento può essere utilizzato per accompagnare la voce o per per accompagnare i balli nell'ambito dei gruppi folkloristici o delle piazze oppure ci sono tutta una serie di nuovi scenari musicali di nuovi percorsi in cui la fisarmonica e l'organetto sono presenti ecco Massimo ha avuto esperienza in tutti questi percorsi insomma per cui ripeto oltre per la musica anche nel parlarci avremo modo di affrontare tutto il ventaglio delle delle possibilità che ci dà una riflessione sull'organetto della fisarmonica in Sardegna beh intanto c'è quella che la famosa la domanda che gli oltre musicologi fanno sempre un musicista quando l'incontrano che è sempre interessante e insomma visto che ve ne sto parlando da tanto e che siamo ormai curiosi di sentire la sua voce e che ho citato il suo maestro chiederei a Massimo di raccontarci un po' quando perché e come hai iniziato a suonare questi due strumenti quando è l'altro ieri 36 anni insomma ma che poi c'è anche qualche testimone qui nella della mia nascita musicale io ho iniziato con il gruppo su Maso avevo 15 anni credo ma così per caso perché io ballavo in un gruppo e vedevo il suonatore su suonatori e tra me e me dicevo mi sembra che non è difficile insomma no mi sembra che se mi ci metto riesca a farlo è stato così per caso e da lì ho iniziato sono andato a scuola poi da Gnacerbi due anni di scuola dopodiché è partita la mia carriera dei suonatori musicista è un po' più impegnativo come termine su suonatori e 36 anni che suonano benissimo ci racconti qualcosa di queste prime lezioni questo rapporto con Erbi insomma l'esigenza di prendere lezioni poi anche di distaccarsi perché poi è così il percorso di chi apprende le lezioni allora di letto proprio leggere niente è tutta una questione di passaggi fate vedere proprio con la mano io posso anche farvelo vedere come funziona tu andavi a casa sua lui faceva lezioni a casa andavi a casa sua ti mostrava un passaggio mi accompagnava il mio babbo eccolo qua in pratica lui mi faceva vedere quello che io dovevo studiare poi a casa poi quando mi dimenticavo lo richiamavo al telefono magari per dirmi a voce quello che poi io mi ero dimenticato e piano piano era una cosa sembra quasi impossibile sentire la lezione e poi vedere quello che può uscire dopo comunque io vi faccio sentire tre secondi di lezione adesso e poi vi faccio sentire quello che ne esce fuori come motivo proprio allora partivamo dall'accompagnamento che poi sono i bassi della fisarmonica questo è l'accompagnamento del ballosato proprio non sembra non sembra ma questo è il limite del ballosato eh troppo lo lasciamo lì quando mi sentite poi aspetta però abbiamo bisogno poi bisognava collegare le cose questo è l'inizio di un ballosato poi fatto questa velocità molto non veloce comunque il ballo vero e proprio in pratica questo che avete sentito è così è uguale è la stessa cosa solo che quella era una una due tre lezioni forse bellissime ci sono due due cose per me molto interessanti della storia di Massimo che sono diciamo caratteristiche della didattica di questi strumenti ma in generale della grande maggioranza degli strumenti di tradizione orale allora intanto non c'è lettura le chiamiamo musiche di tradizione orale perché non sono tramandate attraverso la scrittura per cui chi va a imparare questi strumenti non compra i metodi non ha gli spartiti e così via no c'è qualcosa di scritto lo sai sì sì oggi esistono ovviamente trascrizioni discografie ma chiaramente lo stesso Ignazio Erbi ha fatto un metodo che credo non utilizzi quando fa lezione insomma quindi ovviamente io stesso ho fatto trascrizione di musica di tradizione orale ma quello non è il mezzo attraverso il quale queste musiche si apprendono l'altro aspetto che è molto interessante è che raramente quando si impara a suonare strumenti di questo tipo esiste una propedeutica quando si studiano gli strumenti colt quando si va al conservatorio si studiano gli strumenti classici cioè quella fase è noiosissima io ho fatto le mie prime lezioni di chitarra in cui si fanno gli esercizi che non sono dei brani veri e propri quindi questa propedeutica è dove tu impari a muovere se suoni il pianoforte a muovere le dita una dopo l'altra e così via nella maggior parte delle musiche tradizionali questo non c'è e si va direttamente a scontrarsi col repertorio come vedete nel racconto di Massimo l'unico aspetto diciamo che in qualche modo era preparatorio o propedeutico era il fatto di iniziare prima con una mano e poi con l'altra che era diciamo un primo gradino di facilitazione però già si imparava subito il ballo i primi passaggi del ballo sardo che sono il vero repertorio quindi questa diciamo l'assenza della scrittura e l'assenza di molto spesso di esercizi propedeutici sono due tratti molto importanti della didattica delle musiche di tradizione orale e andiamo avanti vediamo insomma Massimo l'abbiamo presentato vi presento un po' gli strumenti insomma come avete visto sono due una è la fisarmonica che è questa che Massimo adesso impugna e l'altra è l'organetto diatonico che è questo rosso che vedete qui a fianco hanno una storia faccio una piccola parentesi storica hanno una storia una storia comune allora intanto diciamo il primo dato interessante è che all'interno dello strumentario sardo contemporaneo cioè dell'insieme degli strumenti utilizzati per le musiche di tradizione orale in Sardegna sono due strumenti importantissimi insomma tutti andando ad una festa ad una festa paesana una festa di santo o guardando la televisione nelle trasmissioni che si occupano di queste cose o andando in giro insomma per la salina in diverse occasioni avete visto vari strumenti e sicuramente avete visto questo sono tantissimi suonatori rispetto ad altri strumenti veramente sono molto numerosi suonatori di fisarmonica e di organetto ancora di più quindi è uno strumento molto importante all'interno del panorama appunto dello strumentario sardo quindi dell'insieme degli strumenti utilizzati per fare la musica tradizionale nonostante questo sono strumenti come è facile intuire non troppo antichi e poi hanno una caratteristica qualcuno ha scritto li chiama gli strumenti dell'epoca industriale noi veniamo da un'epoca o comunque no possiamo dire così se noi prendiamo questo strumentario sardo di cui sto parlando questo ipotetico insieme di tutti gli strumenti sardi la grande maggioranza di questi sono autocostruiti se voi pensate al suo sulit il flauto di canna o tantissimi altri strumenti il suonatore se lo costruiva da sé erano strumenti dal punto di vista tecnologico molto semplici il passaggio successivo sono strumenti un po' più complessi come le launeddas in cui esistevano degli costruttori specialisti ma comunque si trattava sempre di un lavoro artigiano ecco con questi strumenti e forse prima di questi con le armoniche a bocca e pochi altri c'è un salto netto cioè passiamo a quegli strumenti che sono di produzione industriale non esistevano oggi ne esiste uno ma non esistevano i costruttori artigianali di fisarmonico e di organetto e tantomeno i suonatori tradizionali del passato si costruivano da soli la propria fisarmonica e il proprio organetto ma questi strumenti venivano prodotti in maniera artigianale o semi artigianale o semi industriale e oggi anche industriale e venivano comprati altra cosa interessante è che appunto come vi ho accennato non venivano realizzati in Sardegna quindi questi musicisti tradizionali della Sardegna compravano gli strumenti dal di fuori vi dicevo che hanno quindi solo strumenti recenti figli dell'epoca industriale sono strumenti ottocenteschi che non nascono in Sardegna e hanno una storia è un po' complesso in realtà ricostruire la storia perché appunto siamo in un'epoca industriale siamo in un'epoca in cui sono importanti i brevetti nell'ottocento europeo per cui non sappiamo chi sia l'inventore della fisarmonica dell'organetto noi abbiamo una realtà in cui attorno alla metà del 1800 in diverse capitali europee Vienna, Parigi, Londra più o meno negli stessi anni un anno prima da una parte un anno dopo dall'altra iniziamo a trovare negli uffici dei brevetti diversi brevetti di strumenti che non sono esattamente come questi ma che sono i precursori di questi strumenti quindi insomma chiaramente ognuno di questi precursori si è attribuito all'invenzione di questi strumenti però è molto difficile magari troviamo appunto uno strumento che ha due caratteristiche di questo strumento brevettato a Londra nel 1840 invece a Vienna nel 1941 un altro che non ha una caratteristica ma ne ha un'altra e così via insomma una data certa che dagli studi svolti se non la conosciamo importante per l'Italia è il 1863 perché questa data un po' reale un po' mitica è quella in cui a Castelfidardo nelle Marche che sono ancora oggi il centro fondamentale di costruzione di questi strumenti viene inventato l'organetto diatonico di cui la fisarmonica in qualche modo è un'evoluzione la cosa molto interessante è che questi strumenti arrivano molto presto in Sardegna nel 1863 in qualche modo vengono brevettati nelle Marche e già vent'anni dopo abbiamo delle testimonianze della presenza di questi strumenti in Sardegna c'è in particolare una fonte molto interessante di cui vi parlo meglio dopo quindi diciamo lo scenario temporale è questo uno strumento che viene inventato che viene brevettato con successive modifiche nella metà dell'Ottocento questa data molto importante per l'Italia nel 1863 Castelfidardo Paolo Soprano il costruttore che ancora oggi esiste ancora oggi non lui personalmente la famiglia continua a costruire strumenti molto apprezzati e in pochi anni questo strumento si diffonde in maniera molto importante e arriva anche nell'isola insomma se voi pensate che per esempio per le Launeddas c'è un bronzetto dell'VIII secolo avanti Cristo che attesterebbe l'esistenza di strumenti tricalami in Sardegna quindi parliamo di strumenti che probabilmente hanno 3000 anni di storia in confronto questo è un bambino insomma è arrivato avanti ieri è arrivato alla fine dell'Ottocento e primi anni del Novecento nonostante questo è molto radicato nell'isola e viene utilizzato per suonare musica a Sarta insomma sono le ragioni che lo rendono uno strumento molto interessante gli usi sono tanti l'altra questione insomma lasciamo da parte le origini e ci concentriamo su che cosa si fa con questi strumenti intanto come vi accennavo prima è anche uno strumento di accompagnamento è anche uno strumento intanto di accompagnamento alla voce esistono alcuni repertori che non sono in campigliano non sono di fondamentale importanza in cui la fisarmonica si pone al servizio della voce ad esempio in alcuni casi la fisarmonica accompagna i poeti improvvisatori quando vi dicevo che Massimo ha tutto il range delle esperienze possibili perché c'è una famosa musicassetta perché così circolava la musica sarda registrata negli anni 80 queste cassette poi sono un mistero le famose cassette di musica sarda che vengono diffuse attraverso le bancarine nelle feste io un po' ci ho lavorato sono un mistero perché non mettevano la data di incisione e quando voi andate a chiedere ai musicisti come in questo caso non solo sanno l'anno ma manco si ricorda chi fossero i poeti insomma ci sono due cassette molto apprezzate tra gli appassionati in cui Enea Danese che era un poeta improvvisatore molto conosciuto molto apprezzato ormai morto e Paola Dentoni invece è una voce femminile cantano dei mutetti usafrori e vengono accompagnati da Massimo alla fisarmonica per cui ecco questa è una delle specializzazioni possibili alla fisarmonica insomma porre lo strumento al servizio dell'accompagnamento della poesia un'altra modalità ho parlato di strumento non come strumento principale ma come accompagnamento in qualche modo accompagnamento non ad un altro strumento alla voce ma una funzione secondaria è quella degli accompagnamenti religiosi voi sapete che insomma le feste di Santi le feste per i Santi Patroni e non solo Patroni sono molto diffusi in Sardegna ogni paese ha almeno due, tre se non dieci feste di Santi e che per esempio in Campidano tutta la parte sud dell'isola il santo non può uscire che durante la festa e usanza portare i simulacchi la statua del santo in processione per le vie del paese e che in tutto il sud della Sardegna il santo raramente lascia la chiesa o va in processione se non ha ad accompagnarlo il suono delle launettas questa funzione che nel passato era parlato di launettas è stata presa in parte dalla fisarmonica per cui oggi noi sentiamo sempre della musica quando la statua del santo esce in processione e questa musica può essere musica di launettas o launettas e fisarmonica assieme o anche organetti o anche sul litus e molto spesso la fisarmonica dalle launettas che sono il primo strumento che ha assolto questo compito il repertorio è stato preso anche da questi altri strumenti per cui esiste un repertorio per fisarmonica e per organetto che è quello degli accompagnamenti religiosi che si tratta fondamentalmente di una trasposizione per questi strumenti delle suonate religiose per launettas le suonate religiose per launettas erano diverse ed erano legate alle differenti occasioni c'erano suonate specifiche addirittura per il momento liturgico sapete che nella chiesa mentre le paraliturgie quindi ciò che avviene fuori dalla chiesa processioni sacrile rappresentazioni è più malleabile più modificabile adattabile agli usi locali la liturgia invece è una cosa molto importante che raramente può essere modificata invece in passato oggi molto meno le launettas erano presenti anche in chiesa durante il momento dell'elevazione e poi c'erano degli altri brani dedicati a brani processionali processioni vere e proprie e anche altri che venivano utilizzati per esempio per accompagnare sagunfraria o il comitato quando andava in giro per il paese per fare la quest e così via tutte queste funzioni delle launettas e tutti questi repertori delle launettas come vi dicevo sono passati sulla fisarmonica suonano molto simili le melodie sono quelle ma ovviamente lo strumento è diverso e quindi il modo di realizzarle è diverso sentiamo visto che la fisarmonica è in mano con la fisarmonica non so se più di uno insomma alcuni accompagnamenti religiosi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti due tipi di accompagnamenti diversi c'è una cosa molto bella degli accompagnamenti religiosi sardi che noi spesso abbiniamo l'idea di religione di sacro alla solennità e quindi a queste musiche che vengono dall'ambito colto austere con gli organi delle chiese i grandi cori e invece queste musiche di accompagnamento religioso del campidano sono molto allegri come avete sentito molto ritmiche con queste melodie molto orecchiabili e questa è proprio una caratteristica che è curioso notare a me capita spesso insomma in giro per feste di vedere per esempio molto spesso i turisti ma a volte anche i sardi insomma che sentendo questa musica appunto colgono questo aspetto ritmico li vedi lì che ballano e così via in realtà questa musica appunto che per chi non la conosce può sembrare una musica allegra giocosa scherzosa da ballo in realtà per le orecchie dei campidanesi insomma per noi che siamo cresciuti e vissuti nati insomma cresciuti in questa regione subito queste musiche arreglie in realtà ci riportano il ricordo l'immagine della festa del santo della processione e così via insomma per cui è bello poi come ogni cultura attribuisce significati diversi alle musiche che appunto visti da un'altra cultura potrebbero sembrare completamente potrebbero sembrare avere un altro significato ma diciamo la funzione più importante abbiamo parlato dell'accompagnamento alla voce abbiamo parlato degli accompagnamenti religiosi la funzione più importante per questi strumenti è assolutamente invece l'accompagnamento al ballo anche in questo caso è un accompagnamento perché gli strumenti sono al servizio e accompagnano i ballerini in realtà queste sono le occasioni in cui lo strumento è veramente protagonista insomma il repertorio più importante più complesso più apprezzato di questi strumenti sono proprio le musiche di accompagnamento al ballo che sono quelle che sentiremo da questo momento in poi intanto c'è una prima riflessione vi ho parlato di questi strumenti come strumenti relativamente recenti arrivati poco più di cento anni fa quindi la prima domanda la più lecita è come ballavano i sardi prima di cento anni ovviamente i sardi non hanno iniziato a ballare cento anni fa ma hanno iniziato molto prima e il fenomeno è questo che c'è stato non una sostituzione lineare ma un affiancamento di questi repertori ad altre pratiche musicali di accompagnamento noi parliamo di sostituzione lineare questo capita molte volte quando uno strumento si innesta su un altro e il primo scompare che sono strumenti penso all'ambito colto come l'arciliuto la tiorba sono strumenti che sono oggi fondamentalmente scomparsi insomma non vengono utilizzati nell'orchestra nessun compositore scrive per questi strumenti e così via in questo caso non è stato così possiamo diciamo un po' tagliando con l'accetta per semplificare individuare due macro aree scusate nel sud della Sardegna quella delle launeddas appunto nel sud della Sardegna i balli venivano accompagnati dalle launeddas e questi strumenti prima assieme e poi soprattutto la fisarmonica non sostituiscono le launeddas perché le launeddas continuano ad essere vive e continuano ad essere utilizzate per accompagnare il ballo ma le affiancano e oggi i balli del sud della Sardegna i balli campitanesi possono essere accompagnati sia con le launeddas che con la fisarmonica in qualche modo lo stesso succede col centro Sardegna in cui i balli erano fondamentalmente accompagnati dalla voce dalla voce solista o dei quartetti vocali del cantattenore e l'organetto insomma si insedia in quelle aree non ovviamente facendo scomparire il cantattenore ma affiancandosi adesso quindi nascono dei nuovi repertori che dalle launeddas vengono trasposti per fisarmonica e dall'organetto per il cantattenore in realtà come vi dicevo sto un po' tagliando con la cetta tutto il discorso è più complesso perché noi abbiamo diverse testimonianze della presenza dell'organetto nel campidano non solo nell'epoca recente ma quando questo strumento si è diffuso nell'isola o esistono repertori importanti come il canto a chitarra logodorese in cui la fisarmonica è presente o gran parte dei balli della Gallura del nord Sardegna che vengono accompagnati con la fisarmonica quindi tutto si intreccia ma diciamo questa macro distinzione tra launeddas diffusa nel sud dell'isola balli fatti appunto con le launeddas che in qualche modo a cui si affianca la fisarmonica invece i balli della Sardegna centrale fatti con le voci del cantattenore a cui si affianca l'organetto in qualche modo è un diciamo è un buon riferimento anche se è così un po' generico e quindi torniamo al discorso che vi facevano l'idea di questi incontri è di incentrarci sul Campidano sulla nostra zona sicuramente lo si fa ancora oggi ma in passato di più a Elmas si ballava al suono delle launeddas e quel repertori delle launeddas è passato alla fisarmonica e oggi le la fisarmoniche accompagnano il ballo campidanese quindi fanno una musica che scandisce un ritmo sulla quale può essere ballato il passo del ballo campidanese appunto con la fisarmonica allora lo sentiamo proprio un ballo campidanese dalla fisarmonica un ballo campanese un ballo campanese Grazie a tutti 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 Grazie a tutti